Per contrastare la diffusione del covid e dell'evasione fiscale, lo stato italiano ha appena parato il piano cashless che semplicemente punta all'utilizzo della moneta elettronica al posto di quella fisica, quindi l'eliminazione del contante, cosa che ho già fatto da diverso tempo. In questo video parliamo della lotteria degli scontrini, una lotteria a cui possiamo partecipare di fatto senza spendere soldi per acquistare il biglietto. Difatti per avere dei biglietti e quindi più possibilità di vincita basterà spendere tramite una delle nostre carte. Ci serve un codice apposito che vediamo come ricavare e questo è uno dei due video relativi a questo piano dello stato, perché nel prossimo, che trovate nelle schede se è già uscito, parliamo del cashback. Quindi la possibilità di ricevere una parte, anzi una bella parte di quello che abbiamo speso, direttamente sul nostro conto corrente, pagando con la carta. Quindi nessun costo, ma solo ricavo da parte di noi consumatori. Detto questo, quindi, prima di iniziare ti ricordo di lasciare un like se questo video ti piacerà, iscrivetevi al canale per non perderti i prossimi. Condividilo con chi cerca appunto questo tipo di informazioni. Per qualsiasi domanda, come sempre, puoi scrivermi su Instagram, trovi il link in descrizione, oppure nella sezione dei commenti qui sotto. Iniziamo subito. Ok, eccoci sul computer, perché qui dobbiamo fare un solo passaggio e potremo partecipare alla lotteria. Facilissimo, insomma. Sulla home page del sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, che è lotteria degli scontrini.gov.it, la home page, troviamo anche il menu, ci viene detto che siamo quasi all'inizio della lotteria degli scontrini. Il tutto è possibile dal primo dicembre e dobbiamo semplicemente cliccare su partecipa ora, che è qui, è qui sotto, oppure sul menu partecipa ora. Facilissimo. Andiamo con lo smartphone o con il computer qui, su partecipa ora. Dobbiamo inserire il nostro codice fiscale e accettare l'informativa. Niente di più facile, insomma. E inserire il codice di sicurezza. Cliccando su generare il codice qui sotto, riceveremo poi subito il codice che potremo stampare, quindi averlo cartaceo o, come l'immagine qui, direttamente in digitale, salvarlo sul nostro telefono. Per partecipare, quando andiamo a fare un pagamento che sia digitale o in contanti, basta che facciamo vedere questo codice e lo facciamo scannerizzare all'esercente. L'esercente può essere il supermercato, la macelleria, l'avvocato, il dentista, un qualsiasi, diciamo, la farmacia, qualsiasi persona appunto a cui stiamo facendo un pagamento. Io vi consiglio, come detto all'inizio, di pagare con la carta, sia in ottica Covid, quindi con la questione del fatto che conteniamo il contagio, perché i contanti possono essere veicolo di contagio. Potete fare una ricerca per verificarlo, ma ne abbiamo già parlato qui sul canale ai tempi del primo lockdown, a marzo. Io, ancora prima delle problematiche relative alla pandemia, pagavo già tutto quanto con la carta, perché è molto più comodo e permette anche di farlo forse in maniera più sicura. Ma cerchiamo di capire anche come funziona questa lotteria. Prima però di passare a questo, io vi invito a vedere in descrizione, perché se non avete una carta per pagare in digitale, potete fare via Flowey, che vi regala 15€ di buono Amazon, oppure Hype Next, che vi regala 20€ di buono Amazon. Vi lascio il link in descrizione. A seconda poi delle necessità, queste carte potete magari richiederle, utilizzarle per partecipare all'ottile di scontrini e ricevere il cashback di stato, che è tantissimo, il 10%, ne parliamo nel video successivo, che se già disponibile trovate nelle schede. E, volendo, quando non vi serve più, le chiudete. Sono gratis all'apertura, sono gratis alla chiusura e, tra l'altro, vi invito, perché molto spesso le persone che mi contattano, insomma, miei amici o conoscenti, hanno carte che gli portano dei costi. Quindi, anche i conti correnti. I conti correnti oggi, fortunatamente, in ottica smart sono gratis. Quindi, verificate i servizi che avete e magari valutate di fare un cambiamento o di arricchire, proprio perché questi qui sono gratuiti, e andrete poi a risparmiare eventuali spese di gestione, che, dal mio punto di vista, sono pressoché inutili, effettivamente. Quindi, così andrete anche a risparmiare. Cerchiamo di capire come funziona la lotteria. La lotteria di scontrini funziona a biglietti, molto semplicemente, solo che i biglietti non vengono acquistati, ma vengono generati. Come detto prima, quando vado a fare un pagamento, vado alla cassa del supermercato e faccio scannerizzare il codice a barre che ottengo dalla procedura che abbiamo appena visto. Molto semplice. Quando poi faccio scannerizzare questo codice a barre, su un foglio o sul telefono, sono a posto, sto partecipando. E ricevo un biglietto della lotteria virtuale per ogni euro speso. Significa che se io al supermercato spendo 7 euro, riceverò 7 biglietti. Se io al supermercato spendo 7,49 euro, riceverò 7 biglietti. Se io spendo 7,50 euro, quindi dai 50 centesimi in su, insomma, rispetto al numero principale, riceverò un biglietto in più, quindi 8 biglietti. C'è un arrotondamento per eccesso. Posso ricevere fino a un massimo di 1000 biglietti per ogni transazione. Quindi significa che se vado in un negozio e spendo 1000 euro, riceverò 1000 biglietti. Se vado in un negozio e spendo 1100 euro, riceverò 1000 biglietti. Se vado in un negozio e spendo 500 euro, riceverò 500 biglietti. Praticamente facilissimo. I premi vengono poi sorteggiati e veniamo informati tramite raccomandata a casa, quindi una lettera che arriva fisicamente a casa, tramite posta elettronica certificata, se ce l'abbiamo. E possiamo poi ricevere un bonifico sul nostro conto corrente. Inoltre, io perché vi consiglio di pagare con la carta? Al di là della questione del contagio, appunto, che ovviamente è già un grandissimo vantaggio per evitare la diffusione, le estrazioni sono divise in due differenti categorie, quelle normali, ordinarie e quelle di zero contanti. Se io pago con i contanti, quindi con i soldi contanti, parteciperò solo alle estrazioni ordinarie, che valgono di meno, quindi hanno dei premi più bassi e sono di meno, di fatto. Quindi ho molte meno possibilità di vincita. Se invece pago con la carta, partecipo a entrambe le estrazioni, quindi moltiplico di fatto la mia possibilità di vincita. I premi sono anche molto più alti e, diciamo che è consigliato, anche sotto questo punto di vista, un incentivo a pagare, appunto, in digitale con la carta. E' tutto molto semplice. Come leggiamo, se magari avete già letto, ci sono delle estrazioni settimanarie ordinarie con 7 premi da 5.000€, quindi una al giorno da 5.000€, molto semplicemente, mentre quelle zero contanti sempre ogni settimana sono 15, quindi più del doppio, e valgono 25.000€, quindi 5 volte tanto. In più, ci sono delle estrazioni pure per gli esercenti, quindi, se io fossi un professionista, un avvocato, per esempio, potrei accettare dei pagamenti digitali. E c'è, ci sono delle estrazioni dedicate anche a me che, appunto, accetto i pagamenti digitali. Tutto molto semplice, insomma. Tutte le informazioni le trovate sul sito e per questo video più o meno è tutto. Quindi vi ho spiegato come partecipare alla lotteria, vi ho consigliato di fare delle carte, comunque, che non presentano costi. E, molto semplicemente, qui non dobbiamo neanche inserire i dati della nostra carta. Qua, per partecipare, dobbiamo solo pagare e far vedere il codice a barre. Non ci interessa se pagheremo con carta o altro, però l'elaborazione digitale del pagamento ci permetterà di ottenere la possibilità di partecipare a più estrazioni. E tutto molto semplice. Siamo pronti per poter partecipare alla lotteria. Io vi invito a vedere anche l'altro video, che trovate nelle schede, se è già uscito, come vi ho detto, relativo al cashback di Stato, dove c'è davvero il succo di un'ottima opportunità per recuperare molti soldi. Proprio perché lo Stato ci restituisce poi il 10% di quello che spendiamo, che è tantissimo come cashback. In più, io vi esorto anche a vedere, ad esempio, il video della carta di Crypto.com, perché quella è una carta, vi ho fatto vedere in precedenza, ve la lascio nelle schede, che ci dà del cashback. Quindi, se ad esempio ottengo il 10% dei soldi che spendo dallo Stato, quindi per esempio, spendo 100€, ricaverò poi fino a 10€ di cashback, appunto, dalla spesa, quell'altra carta ci permette di ricavare il 2% di cashback. Questo significa far tornare indietro il 12% di quello che spendiamo, che è una cifra veramente esagerata, è tantissimo, e permette quindi di ottenere come se fosse uno sconto del 12% su qualsiasi cosa andiamo a comprare in un negozio fisico. Quindi, fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi invito a iscrivermi sia su Instagram, quindi tramite il link in descrizione al mio profilo, oppure qui sotto nel box dei commenti. Lasciate un like al video se vi è piaciuto e per questa ottima iniziativa, secondo me, condividetelo con chi può essere interessato. Questo darà una grossa mano, comunque, alla diffusione di queste buone informazioni, perché comunque contenere qualcosina del Covid non è assolutamente male, l'evasione fiscale è anche una cosa brutta e quindi potrebbe aiutarci anche in senso lato. Quindi, un saluto a tutti e al prossimo video!